In occasione della giornata mondiale del cancro abbiamo chiesto il parere a un medico che ci ha parlato di prevenzione e delle cause a monte che determinano lo sviluppo dei tumori in forte aumento. Fra queste vi è l'inquinamento. I dati parlano del 3,7 per cento di tumori in più dal 2020. Nel 2022 si è arrivati in Italia a oltre 390 mila casi di tumore. Sono tantissimi e bisogna capire perché stanno aumentando. Di sicuro si sa, come si dice lo studio di CBA, che in Italia si spendono quasi 48 miliardi di euro all'anno per le emissioni atmosferiche, per l'inquinamento, per l'esternalità ambientale. Vuol dire che circa un terzo della spesa sanitaria dipende dall'inquinamento. Bisogna assolutamente ridurlo. Bisogna tener conto che ci sono tante cose che influenzano all'inquinamento. Si parte dalla mobilità, è impossibile pensare dalle nostre parti a nuove autostrade. Si arriva al civile, deve essere rafforzato lo strumento del super bonus e bisogna assolutamente ridurre i capi animali allevati perché questa è una fonte di inquinamento importante sia dell'aria che delle falde acquifere e che anche è una fonte di riduzione della nostra salute l'eccesso di carne.